Oh, salve! Ciao! Mi scuso, io avrei dovuto portare un regalo, un regalo per la casa. In queste occasioni si fa, ma non ho avuto tempo di prendere niente, allora mi dispiace proprio tanto. Davvero? Senti, non è un problema. Che è successo? Ehi, andiamo. Vieni qui. Qualcuno ha visto Cristina? Perché se la pressione non trova una via d'uscita, se ne procurerà una. Senti, lascia che parli con lei. Ok. Vieni qui. Andiamo, basta. Esploderà. Ok, d'accordo, andiamo fuori.